Sto nelle stesse condizioni in cui sono stato sul set per due mesi in questa conferenza, nel senso che è stato meraviglioso e divertentissimo e ovviamente quello che faccio io all'interno del film è tutto quanto, come dire, una fortissima autoironia sulla parte, tutta la parte maschile insomma, perché come diceva lo sceneggiatore prima, un uomo in mezzo a tre donne e che tipo di donne ovviamente è destinato a soccombere?